Ciao a tutti! Febbraio è un mese cortissimo e infatti è volato via, indi per cui faremo i preferiti, i miei preferiti, del mese di febbraio. Oggi, dato che non ho particolari cose da dire su cibo e vestiti, parleremo di libri, film, musica e youtuber. Iniziamo subito. Allora, ovviamente partiamo dai libri. I libri del mese sono stati sicuramente l'arte di collezionare mosche, ve ne ho già parlato, un bellissimo romanzo barrasaggio, un ibrido che parla di insetti e che nonostante l'argomento spinoso si manifesta come estremamente interessante. Ve ne ho già parlato e vi linkerò la recensione, la mia recensione qui sotto. L'altro libro, anche di questo ve ne ho già parlato, è Olive Kitteridge di Elisabeth Strout. Che può rientrare anche nella corrente del minimalismo, per certi versi rimanda sicuramente a Carver, a me l'ha ricordato parecchio. Ve ne ho già parlato e anche in quel caso vi linko la recensione qua sotto. Questi due sono stati i miei libri preferiti letti questo mese. Lo scrittore del mese invece è Friedrich Sjöberg, appunto, di L'arte di collezionare mosche, di cui ho letto anche Il re dell'uvetta. Il re dell'uvetta mi ha sorpreso meno, semplicemente perché è praticamente identico all'arte di collezionare mosche, con la differenza che anziché René Malaise, il protagonista, diciamo, è Eisen, che è uno studioso di lombrichi e di uvetta, piantatore di uvetta. È un libro interessantissimo ancora una volta, però l'effetto sorpresa è nato scemando. Tuttavia a me piace molto il suo modo di scrivere, il suo modo di perdersi in digressioni su altro, fare dei parallelismi tra la vita dell'autore che lui cerca di studiare e la sua, no? Fa un parallelismo. E in Il re dell'uvetta lui fa un interessante excursus sulla natura concepita come arte da esporre nel museo, perché appunto Sjöberg ha anche esposto i suoi sirfidi al museo, no? Ed è un autore che mi è piaciuto. In generale sto scoprendo tantissimo gli autori del Nord, con i libri iperborea, che sono la mia ossessione del momento, poi ci sarà un'altra ossessione conoscendomi, però in generale sì, sono nella fase grande Nord, ecco, a livello letterario. Regista del mese, perché parliamo di film, è Krzysztof Kieslowski, adoro. È Il Decalogo, Film Blu, Film Rosso, tutti i film bellissimi. Io mi sono rivisto questo mese La Doppia Vita di Veronica, un film bellissimo che vi consiglio, ed è un regista con i controcazzi, cioè non potevo non mettere lui. Cioè, quando ho rivisto La Doppia Vita di Veronica, ho visto certe scene, ho detto, ma do, cioè, fighissimo. E quindi un regista fondamentale per chiunque si ritenga appassionato di cinema. Se non si è visto niente di Kieslowski occorre assolutamente rimediare immediatamente, perché lui ha stile da vendere. In pochi girano bene quanto lui, quindi figo. Per i film, per quanto riguarda i film, invece sono tre. Allora, il primo, che è di un regista che è stato protagonista anche dello scorso video preferiti del mese, è Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, importantissimo regista tedesco, che ho amato questo mese con un film che non avevo visto e che ho recuperato, che si intitola Perché il signor R è colto da... È colto... Ah! Perché il signor R è colto da Follia Improvvisa, che in sostanza mi è sembrata una sorta di anticipazione del capolavoro di Aneke, Il settimo continente, che è un film che vi ho consigliato milioni di volte ed è uno dei miei film preferiti, perché questo film, questo piccolo film di Fassbinder, tratta la storia di questo uomo perfettamente inserito nella società, sposato, con figlio e con un lavoro. Lavoro mediocre nel senso che non è un lavoro che ambisce a un sogno, ma è un lavoro discreto. È un lavoro comunque borghese dell'ufficio, no? E quindi lui è inserito pienamente nella, diciamo, mediocrità della vita borghese, nella noia della vita borghese. E il titolo ci lascia presupporre che quest'uomo sbroccherà. E quando sbroccherà? Ovviamente sul finale. Però la genialità di questo film è che proprio tramite il titolo tiene inchiodato lo spettatore, perché lo spettatore per un'ora, un'ora abbondante, vede la vita di quest'uomo e i piccoli cambiamenti che lo portano a questo stato di ira furioso. Furioso fino a un certo punto, perché comunque i suoi atti sono freddi e gelidi. Però è devastante questo film. È un film bellissimo che terrorizza anche a tratti. Per quanto, per certi aspetti, nella sua satira nasconda anche un certo umorismo marcio, come è tipico nei film di Fassbinder. Il secondo film che devo nominare è Trainspotting 2 di Danny Boyle, perché l'adolescente Trasgrimè ha gridato al cinema in lacrime. È un film, magari ve ne parlerò meglio quando farò le ultime visioni, ma ne ho un altro di ultime visioni da sbloccare, aiuto. Solo che mi vengono sempre idee per video Trasgrimè, allora io mi gaso, allora li pubblico e quello lì è lì che aspetta da una vita. Lo sblocco, ragazzi, lo sblocco. Però Trainspotting 2 mi è piaciuto. Avevo paura perché è un seguito di un cult, però l'ho amato molto per lo stile di regia, che comunque è fedele a Danny Boyle, quindi è molto videoclipparo, e quindi è molto anni 90, e non poteva che essere girato così un seguito di Trainspotting. Però è un Trainspotting aggiornato, dove la droga è abbastanza di sfondo, non è l'argomento principale. È un film che parla di vecchiaia, ed è un film estremamente vero, per certi aspetti, commovente, e io adoro Spad, cioè è uno dei personaggi più dolci, carini, ma è apparsi sullo schermo. Bello, ve lo consiglio. L'altro film fondamentale del mio mese è Terminator di James Cameron. Oddio, io non l'avevo mai visto, è un'angonia questa cosa, perché io sono cinefilo, Terminator è un must, è uno dei film chiave del movimento cyberpunk agli 80. Non l'ho mai visto, non so neanche perché, non mi ha mai intrigato. Poi un giorno ho detto, ma sì dai, vediamolo. Ero lì a fare le pulizie, col mio Swiffer, e avevo già nominato questa cosa. Nei commenti qualcuno mi ha detto, ma come, ma fai le pulizie, che cosa poco... Cioè, scusate ragazzi, che io sia così cosa... Cioè, devo fare le pulizie, se no vivo nella merda, no? Io la pulisco, la roba che uso e dove sto. Quindi ero di farne pulizie, ho fatto partire Terminator, e mi sono gasato talmente tanto che ho imbraccato lo Swiffer, e mi sono messo a sparare colpi, come se fosse un Kalashnikov. Fighissimo. La storia, vabbè, è anche carina per certi aspetti, poi considerando gli anni, è sicuramente convolgente, è girato benissimo. Persino Schwarzenegger, che non è sto grand'attore, ha il suo fascino, nel suo essere monospressivo, e adrenalina a mille, cioè un film divertentissimo, e allo stesso tempo profondo, ed è figo, dovete guardarlo, se non l'avete visto. Per quanto riguarda la musica, invece, l'album che ho amato di più, vi ricordo che è uscito l'album degli Shushu, finalmente, Forget, ma io l'avevo già ascoltato, perché sono trasgri, me lo sono procurato prima, ma lo comprerò, ve lo consiglio, ma non è stato l'album del mese, perché è stato l'album di periodi fa, ogni tanto me lo riascolto, ma non è stato il protagonista del mese, e il protagonista del mese è stato l'album di Iggy Pop, un classico, mi è venuta voglia di ascoltare Iggy Pop, sto mese, sapete che io ho il revival ogni tanto, e l'album è Last for Life, merito anche di Trainspotting, sicuramente, Last for Life è l'album più figo di Iggy Pop, cioè io l'adoro, tra Last for Life e Passenger, ma tutti i brani sono fighi, e sono belli grezzi, incattiviti, fighissimo, ascoltatelo, l'altro album, in realtà un EP che ho amato alla follia, è Bubble Bath, di Death Poppy, ovvero la youtuber preferita, e quindi ve l'anticipo già, vabbè, di Poppy ve ne ho già parlato, youtuber fighissima, che in realtà è un bellissimo progetto di NetArt, ne ho parlato in un video, ve lo linko qua sotto, e anche appunto, Poppy è anche cantautrice, e ha pubblicato questo EP di quattro canzoni, pop, electro pop, molto molto piacevoli, e ti si incollano nel cervello, non le abbandoni più, e sono quattro canzoni che per il genere sono fighe, secondo me, e sono state le quattro canzoni che ho più ascoltato, andando a fare jogging in palestra, perfette per quello scopo, c'è Low Life, che è molto estiva, con questo ritmo reggae, che va un po' di moda, poi il ritornello proprio killer, che ti si incolla in testa, Money, che è la mia preferita, fighissima, Altar, che invece ha un bel piglio, power pop anni 90, e in conclusione, American Kids, anche quella mi piace tantissimo, e mi ricorda per certi versi alcune cose di Avril Lavigne, però in una chiave un po' dreamy, un po' anni 90 anche quella, per certi versi mi ha ricordato anche Sky Ferreira, che a me piace, e niente, questi sono i miei preferiti del mese, fatemi sapere i vostri, come sempre ricordatevelo, e fatemi sapere se avete visto, ascoltato, letto qualcosa che ho nominato io, cosa ne pensate in caso, anche se vi fanno schifo, io non mi, non mi, non me la prendo assolutamente, io vi mando un bacio, vi saluto, e alla prossima, ciao ciao!